Un robusto campo di alta pressione di matrice afro-mediterranea continua a garantire condizioni di stabilità su gran parte dell'Europa. Sul Mediterraneo centrale nessuna variazione significativa, almeno fino a martedì. In Toscana lunedì 31 ottobre sereno al più velato, con locali nubi basse sul litorale e nebbie bantutine sul val d'Arno inferiore. Venti deboli meridionali, mari calmi e poco mossi, temperature in lieve caldo. Sul territorio provinciale foschie nottetempe al mattino, sereno nel corso della giornata. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 11, massima 22 gradi. A Castelnuovo Garfagnana e zone montane, minima 8, massima 21. A Biareggio e sul litorale, minima 13, massima 22 gradi. Martedì aumento della nuvolosità dal pomeriggio sulle zone occidentali, dove non sono escluse locali e deboli piogge.